Bentornati, bentrovati a Volevo fa l'attore, io volevo fa l'attore quando ho visto per la prima volta Jack Sparrow e già avete capito di chi stiamo parlando perché il 9 giugno 1963 nasce negli Stati Uniti d'America Johnny Depp. Johnny Depp che inizialmente, nonostante ciò torneremo poi a Jack Sparrow perché è stato un ruolo che sicuramente a lungo andare gli ha causato dei problemi dal punto di vista artistico ma vi spiegherò bene dopo. Johnny Depp inizialmente non doveva fare l'attore, doveva fare il musicista, doveva fare il musicista tra l'altro ha composto anche dei brani per esempio con l'Oasis ma la sua amicizia con Nicolas Cage che è un attore abbastanza opinabile nel mondo hollywoodiano lo ha portato a mettere in scena la sua prima pellicola nel 1984. La pellicola in questione è Nightmare. Nightmare è una pellicola con la regia di Wes Craven e da lì inizia la crescita esponenziale di Johnny Depp all'interno del mondo cinematografico ma la cosa più importante che noi dobbiamo andare a vedere per quanto riguarda Johnny Depp è come sia stato capace di essere cangiante come attore. Le sue interpretazioni sono molto interessanti, addirittura riesce a lavorare con gente che solitamente in Italia fa i cine panettoni. Io stimo Christian De Sica e in The Tourist mostra quello che ho sempre pensato di lui, che è un bravo attore e ha un'ottima padronanza anche della lingua inglese. E a fianco di Johnny Depp non demerita mai. C'è anche Rino Frassi che all'interno di The Tourist è un film che può essere interpretato in maniera positiva da alcuni, negativa da altri. E' un film che comunque vi consiglio di vedere anche perché ci sono delle ambientazioni come avete visto anche dal cast in Italia. Johnny Depp quindi comincia la sua carriera nel 1984 dal punto di vista cinematografico grazie all'amico Nicolas Cage. Quello che è fondamentale capire di Johnny Depp è un binomio, il binomio che porta avanti con Tim Burton. E il primo film che mettono in scena con Tim Burton è Edward Mani di Forbice. Lì abbiamo la prima grande interpretazione secondo me di Johnny Depp perché riesce a mostrarsi come è stralunato, maledetto in quel ruolo. I ruoli maledetti sono quelli che gli si addicono di più. Nonostante nell'ultimo periodo avesse preso il ruolo dell'antagonista in Grindelwald e per situazioni private purtroppo non ne ha potuto portare avanti il ruolo, vediamo come anche lì aveva un profilo interessante. Come avevo detto in uno dei podcast precedenti, anche Johnny Depp non è che io impazzissi per il suo ruolo di Grindelwald. E ripeto, lo ripeto anche qui, mi convince molto di più Mads Mikkelsen e mi avrebbe convinto fin dal principio di averlo lì. Ora questa campagna che stanno portando avanti i fan di Johnny Depp che non vogliono vedere Animali Fantastici senza l'attore. Diciamo che nel mondo del cinema ci sono stati questi cambi e lui ne è stato protagonista con Parnassus nel 2011 che ha sostituito un attore che era morto e doveva prendere quel ruolo. Quindi diciamo così, i cambiamenti ci possono stare, possono avvenire all'interno di una pellicola, figuriamoci all'interno di una saga. In Harry Potter stesso cambia il personaggio di Silente per la morte di Richard Harris quando poi prenderà il suo posto Michael Gambon. Quindi possono accadere queste cose. Quello che io non apprezzavo del suo Grindelwald è qualcosa che purtroppo si porta dietro da Jack Sparrow. E lo dicevo all'inizio, Jack Sparrow ha influenzato prima positivamente Johnny Depp perché se il mondo conosce Johnny Depp non lo deve ai film con Tim Burton purtroppo, perché sono comunque dei gran bei film, ma a Capitano Jack Sparrow che porta con sé cinque pellicole. Questo personaggio, partendo dalla maledizione della prima luna, è un personaggio dinamico, buffo, grottesco sotto alcuni aspetti, che soddisfa lo spettatore perché gli tiene compagnia, fa parte comunque di uno stile appartenente alla vecchia commedia. Ciò che lo rende speciale è proprio il modo di interpretarlo che gli dà Johnny Depp. La maledizione della prima luna non influisce ancora definitivamente, ci troviamo nel 2003, nei gesti, nelle azioni che Johnny Depp fa negli altri personaggi. Per lo più tutto ciò avviene dopo i due film che sono delegati tra di loro, che sono La maledizione, Del forziere fantasma e Ai confini del mondo. Dall'in poi vediamo come tutti i ruoli di Johnny Depp portino con sé una sedimentazione del ruolo di Jack Sparrow. Però c'è tanto altro, soprattutto nel bilomio di Tim Burton, c'è un film che ho apprezzato tantissimo, ed è Il segreto di Sleepy Hollow sul finire degli anni 90, ed è un film che mi piace molto, perché prende questa festività di Halloween, questo mistero che fa parte della festa di Halloween e lo trasporta al cinema con un esempio buono. Ce ne sono stati tantissimi, credo che la regia di Tim Burton premi ancora di più questo film e l'interpretazione per l'appunto di Johnny Depp. Sono tantissimi i lavori che lui fa con Tim Burton, passando anche dal cappellaio matto di Alice nel Paese delle Meraviglie e di Alice attraverso lo specchio, un cappellaio matto atipico, ma non atipico, veramente folle, direi veramente folle. È apprezzabile in ogni suo aspetto, in ogni sua sfumatura, qui non vi è nessun tipo di influenza rispetto a Jack Sparrow. Tenete sempre in mente Jack Sparrow perché è il ruolo che condanna in alcuni casi Johnny Depp. Basta vedere come teneva la bacchetta Grindelwald, delle volte sembrava di vedere Jack Sparrow che maneggiava una spada. Quindi questo è un esempio pratico per far capire cosa intendo in questo tipo di lavoro. Lavora con Lance Alstrom in Buon Compleanno Mr. Grape nel 1993 e con lo stesso regista lo rivediamo anche al lavoro con Chocolat. Con Chocolat che è uno dei film che apprezzo di più per quanto concerne la drammaticità, i ruoli drammatici interpretati da Johnny Depp e lo fanno apprezzare sotto un aspetto definitivo. Qui ancora non abbiamo, ripeto, quell'influenza di Jack Sparrow che ci sono degli strascichi che si porta dietro per tantissimo tempo. Riesce a lavorare anche con Roman Polanski in La nona porta, sempre sul finire degli anni 90. Ha un film, una regia nel 1997 cinematografica che è The Brave, Il Coraggioso nel 1997, quindi si dà da fare dal punto di vista cinematografico, è veramente enorme. Apprezzo anche Blow di Ted Demme nel 2001 che è un film che consiglio di vedere, tra l'altro molto spesso io ti auguro di avere il vento in poppa. Questa frase è utilizzata molto spesso nei social, quindi magari andatevi a vedere anche la pellicola prima di pubblicarla nei vostri profili social. Quello che apprezzo anche di Johnny Depp è l'interpretazione di Sweeney Toad, il diabolico barbiere di Fleet Street, sempre con la regia di Tim Burton. È un musical Sweeney Toad che viene fatto anche a Broadway ed è molto apprezzabile sotto diversi aspetti. Tra l'altro troviamo anche personaggi appartenenti al mondo potteriano, come Alan Rickman per esempio, o l'interprete di Codaliscia. Ed è un film abbastanza piacevole perché io riesco, non sono un amante dei musical, lo dicevo nel podcast Sweeney Maston, ma sono un amante dei grandi interpreti. Ecco, dobbiamo discernere una cosa, soprattutto quando guardiamo una pellicola, perché per esempio c'è una pellicola che purtroppo non mi piace proprio di Johnny Depp che è The Lone Ranger, una produzione Disney. Ora la Disney taglierà via tutti i miei podcast perché sicuramente loro sono i poteri forti. E poi non l'apprezzo perché ha tutti gli strascichi questo personaggio di Jack Sparrow e quindi forse anche la produzione Disney che volevo richiamare sempre quel personaggio perché ricordiamo la saga di Pirati dei Caraibi appartiene sempre a un prodotto, un progetto della Disney. Quindi lì vediamo praticamente tutto quanto. I film poi di Pirati dei Caraibi si perdono un po' con Oltre i confini del mare che io non apprezzo fondamentalmente. La questione è essenzialmente una. Perché continuare una saga che probabilmente la sua linea narrativa l'aveva già finita? Però anche qui non bisogna giudicare un attore dalla pellicola in cui si trova perché può capitare che un grande attore, lo dicevamo anche per Morgan Freeman e quei richiami adesso cominciano a essere veramente tanti, lo dicevamo per Morgan Freeman, si fanno pellicole brutte ma l'interprete è sempre bravo in determinati ruoli perché riesce a rendere quella pellicola magari non straordinaria, ok, ma comunque fa il suo dovere e lo fa bene. E il mestiere dell'attore non è mai roba semplice perché certe volte condannando una pellicola, la critica o il pubblico si va a condannare anche l'attore. E questo possibilmente per me, sotto il mio giudizio, per il mio modo di vedere le cose, questo non va comunque fatto. E lo vediamo anche in tantissimi film, cioè ce ne sarebbe un'infinità in To The Woods per esempio, poi negli ultimi anni come abbiamo detto Animali Fantastici e Dovi Trovarli e successivamente l'anno dopo un altro film di Pirati dei Caraibi con Javier Bardem che fa l'antagonista, io amo, Javier Bardem è talmente cattivo che potrebbe praticamente spaventare anche uno spaventapasseri che non ha vita praticamente, però Javier Bardem può fare quello che vuole secondo me. E poi lo ritroviamo nuovamente in Animali Fantastici e poi le vicende private come sapete legate alla sua seconda moglie hanno un po' cambiato la situazione. Mi piace ricordare che è stato sposato con Winona Ryder con cui ha avuto un rapporto diverso rispetto a tutte le altre donne che ha avuto all'interno della sua vita. Winona Ryder per intenderci è una delle protagoniste femminili più importanti di Stranger Things, più grandi di età ovviamente, non i ragazzini, non facciamo riferimento ai ragazzini in questo momento. L'ultimo film che ha visto e impegnato Johnny Depp nel 2020 ha la regia di un italiano che è Ciro Guerra ed è Waiting for the Barbarians, un film che non ho visto e purtroppo con la chiusura del cinema non ho potuto più vedere tutti gli stessi film che vedevo precedentemente ma sicuramente ci rifaremo. Adesso circola una data che è quella del 27 marzo in cui riapriranno teatri e cinema ma staremo a vedere se gli esercenti saranno disposti ad aprire in una situazione del genere. Un film che vedrà impegnato, una produzione che vedrà impegnato Johnny Depp nel prossimo futuro è Minamata con la regia di Andrew Levitas nel 2021, cioè nell'anno corrente. Quindi vedremo se riusciremo magari a vederlo al cinema, a rivedere Johnny Depp al cinema, quindi comunque riesce a lavorare anche sotto questo aspetto. Quello che bisogna dire essenzialmente Johnny Depp per chiudere un po' tutti quanti i discorsi è una cosa sola, io lo apprezzo, lo apprezzo tantissimo ma non è uno dei miei attori preferiti perché credo che molti altri possano fare anche meglio di Johnny Depp. Però questo è il tratto distintivo di Johnny Depp, che lui è dotato di un immenso talento e gli sarebbe bastato un gesto, una parola, uno sguardo fatto per caso. Un po' come faceva Marlon Brando anche, anche se Marlon Brando credo che sia anche di un'altra generazione e forse di un altro livello. Poi lì comparare gli attori è veramente una cosa che non apprezzo, come quando si dice che quel pezzo non lo può fare più nessuno perché era di quello. Io credo che ognuno abbia la sua sensibilità e ognuno abbia il suo modo di mostrarla e Johnny Depp è uno che ha un'estrema sensibilità nonostante sia stato comunque perseguitato nel corso della sua vita da diversi problemi dal punto di vista sociale, dal punto di vista anche della droga, perché no, hanno diciamo così mutato l'essenza di Johnny Depp. Johnny Depp è stato comunque uno dei più grandi attori che abbiamo incassato una cifra simile tra il 2009 e il 2010 perché ha incassato la cifra di ben 80 milioni di dollari in un solo anno. Quindi le produzioni sono risapute e credo che si faccia riferimento anche in quel periodo a tutti i lavori fatti per il mondo Disney, che è un attore comunque apprezzato, o i lavori con Tim Burton. Johnny Depp è qualcuno che ha bisogno di lavorare, ha bisogno di lavorare per continuare a crescere esponenzialmente, tra poco compirà 60 anni, nato il 9 giugno del 1963 come dicevamo all'inizio, e io sinceramente non vedo l'ora di rivederlo al cinema magari. E stavolta te ne prego Johnny, non nel ruolo di Jack Sparrow.